Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, 4 km di coda in diminuzione per incidente tra Chiesina Unzanese e Pistoia, con coda in uscita a Montecatini. Ci sono inoltre code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. Sulla Fipili per lavori, 3 km di coda tra Montelupo e Lastra a Signa in direzione Firenze. 2 km di coda sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Per traffico intenso, code in uscita a Santa Croce in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!